Tra loro Elio De Angelis, alle prese con la deludente Bravan Stoliova. All'uscita di una curva però, un alettone della sua monoposto volava via assieme ai suoi sogni. Una fine atroce che oltre a gettare nello sconforto la famiglia, lasciava un segno profondo in tutto il circo della Formula 1, che lo aveva sempre stimato per il suo altruismo e l'assoluta discrezione. Grazie per la visione!